Buongiorno amici di Calciomercato.com Siamo qui ad Appiano Gentile dove da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti e oggi proprio il tecnico toscano ha ammesso probabilmente per la prima volta che l'Inter di fatto è interessata a Via Il Pastore il calciatore argentino sappiamo benissimo è entrato da circa un mesetto nell'orbita della società Nerazzurra ebbene il suo procuratore Marcello Simonian è qui a Milano in pianta stabile ormai proprio da un mese è vero si è spostato per altri affari in giro per l'Italia e per l'Europa ma poi è sempre tornato qui a Milano dove soggiorna in uno degli alberghi più famosi della città e quindi è arrivata questa conferma, conferma di una notizia che Calciomercato.com vi racconta da tanto tempo e cioè che l'Inter vuole a Via Il Pastore è una trattativa che va avanti, una trattativa complicata perché il Paris Saint Germain non lo vuole liberare semplicemente però il calciatore è riuscito a strappare una promessa ad Al-Khelaif il presidente della società francese sappiamo che il calciatore lì è trattato con i guanti è un giocatore a cui la società, la proprietà parigina tiene molto e il calciatore ha voglia di giocare, ha voglia di andare a prendersi nuove esperienze per potersi guadagnare quel mondiale a cui tiene tanto e non giocando a Parigi è chiaro che tutto questo possa essere messo in discussione Pastore ha chiesto una cessione, lo ha chiesto con i modi giusti, i modi che sono piaciuti a Parigi e quindi faranno qualcosa per accontentarlo e l'Inter dal proprio canto farà qualcosa per andare incontro a quelle che sono le richieste del PSG che non vuole darlo in prestito, vuole monetizzare dall'eccessione del calciatore argentino anche perché per obblighi del fair play finanziario deve farlo per forza di cose e quindi cosa succederà? Succederà che l'Inter in qualche modo non sono ancora note le modalità ma cercherà di accontentare il PSG magari offrendo un diritto di riscatto oppure un prestito biennale che poi possa diventare obbligo perché sappiamo che l'Inter ha dato via Gioomario risparmierà 4 milioni di euro da questa cessione potrebbe guadagnare qualcosa anche dalla cessione di Eder sempre più lontano dai colori nerazzurri e allora l'Inter e Pastore in qualche modo continueranno a corteggiarsi fino al termine di questa sessione di mercato dove Ausile e Sabatini sperano di portare il calciatore a Milano